Sport e disabilità, due dimensioni che comunque possono andare a braccetto? Sicuramente, per celebrare la giornata internazionale dei disabili che sarà il 3 dicembre abbiamo fatto questo convegno su sport e disabilità con due ospiti d'eccezione, due atleti Onei Tapia e Mauro Bernardi e che ci hanno dato l'occasione di affrontare le problematiche che ragazzi, persone disabili devono affrontare quando vogliono avvicinarsi al mondo dello sport tutti hanno il diritto di fare sport, questo lo dice bene l'ONU e quindi chi si occupa di sport a vari livelli deve favorire e rimuovere tutti gli ostacoli affinché tutte le persone di ogni continente, di ogni credo, di ogni genere abili e meno abili e che poi questo è molto relativo, possano proprio praticare lo sport che più si confà alla propria caratteristica, alle proprie volontà Quanto è stato importante lo sport? Lo sport è stato la chiave per aprire la voglia di tornare a vivere mi sono accorto che avevo acquisito questa disabilità e non potevo più fare le cose come prima ma grazie attraverso lo sport ho potuto proprio rimettermi in gioco e scoprire di avere ancora delle doti, delle qualità e metterle poi in pratica anche per gli altri quindi trasmettere di questa passione, soprattutto in particolare per lo sci alpino Cosa si sente di consigliare a quelle persone che per qualsiasi motivo si trovano con una situazione fisica o comunque una situazione diversa? Beh, Darwin diceva che sopravvive colui che si adatta prima al cambiamento quindi non si può cambiare, c'era una certa condizione, soprattutto a condizioni di disabilità ma bisogna imparare a conviverci e il primo passo è proprio quello di non accettarla perché probabilmente nella vita non si accetterà mai, però conviverci insieme quando poi si arriva a quel passaggio si inizia a volersi bene iniziamo a volerci bene e capire che siamo ancora parte del mondo e quindi metterci in gioco con le nostre abilità e lo sport sicuramente ha una gran valenza in questo Per una persona con disabilità è molto importante il fatto di fare sport perché comunque quando la persona si ritrova con ragazzi che hanno la stessa situazione fisica o mentale e quindi è come se fosse una grande famiglia dove il ragazzo vede che sono tantissimi ragazzi che hanno la stessa patologia e quindi entra in confidenza in questo mondo, in questo campo e quello lo aiuta a prendere più sicurezza in se stesso lo aiuta anche a svilupparsi molto di più e capisce che non è solo in questo mondo e questo anche per lui è una garanzia che le dà in questo campo e a maggior ragione quando loro vedono che ci sono tantissime persone che danno il loro tempo libero per questa causa e loro si sentono ancora molto più sicuri e dobbiamo continuare su questa strada e lavorare perché ragazzi quando la sfiga bussa la porta non guarda in faccia nessuno e quindi dobbiamo essere pronti ad agire e essere pronti ad collaborare Ecco, oggi pomeriggio è un convegno quindi attività legate all'inclusione, alla disabilità, allo sport ma la festa continua Sì esatto, fino adesso è andato tutto molto bene e proseguiamo anche con la cena e con della musica per il dopo cena quindi la serata continua per questa giornata ricca di eventi e di emozioni legate proprio al tema sport e disabilità ma anche e soprattutto inclusione e ci tengo anche a ringraziare di nuovo magari però le associazioni che con noi con la cooperativa Sottosopra, l'associazione IDEM e la Proloco di Parre hanno lavorato oggi e anche nei giorni scorsi e lavoreremo anche poi nei prossimi per la realizzazione di questo evento quindi in particolare tutta la comunità di Parre e tutte le associazioni di Parre che non elenco perché sono davvero tante e rischerei di dimenticare qualcuno ma davvero tutti ci hanno aiutato e ringrazio anche l'oratorio che ci ha accolto per questa importante iniziativa